Vi saluto, miei cari, sono Kryon del Servizio Magnetico. Tutto il mese abbiamo parlato di un argomento, il recupero. Il recupero è un'espressione che ho dato un po' di tempo fa e che è stata spiegata come il recupero che avviene da un coma. Questo è stato sempre il suo significato e lo scorso gennaio ho chiamato quest'anno l'anno del recupero, perché a voi piacciono le etichette. Ed è veramente come uscire da un coma. E non riguarda solo chi guarda un programma come questo. È il piano. E lentamente e in modo diverso, molte persone si renderanno conto che ci sono cose intorno che sono diverse e sentono in modo diverso. Possiamo dire che stanno vedendo più quello che c'è sempre stato e stanno anche sentendo che adesso hanno il potere di cambiarlo. E questa è la grande differenza. La grande differenza nell'umanità è che ora ha la capacità di sentire, di poterlo cambiare. E questo richiede anche che a livello individuale sentiate di avere un po' più di autostima. E tutto questo si somma ad una coscienza superiore che viene consegnata all'umanità. Questa coscienza superiore è sempre stata qui. È solo una questione di, l'hai vista? L'hai vista e poi l'hai presa? E l'hai applicata a te stesso? Si tratta di svegliarsi alla luce che si è presentata. Queste sono metafore, ma è la realtà. Un essere umano lineare vuole credere che questo non ci sia mai stato prima e che vi risvegliate ad una luce che risplende e che un angelo ha messo lì e voi la prendete. E quindi pensate che ci siano strati di cose avvenute sulla Terra e che quando vi risvegliate prendete le cose che sono state lasciate per voi. Ma non è così. E se vi dicessi che ci sono stati esseri umani, società in generale e culture con una coscienza spirituale superiore sin dalle origini dell'umanità e che poi l'umanità è regredita fino a quello che vedete oggi. In altre parole, l'umanità è diventata di bassa coscienza con libero arbitrio. Non c'è stata alcuna cospirazione che l'ha fatto. L'avete fatto da soli. E la vostra cash lo prova. La razza umana ha sempre investito nella guerra. È quello che fate. Ma prima non lo facevate. Dunque qualcosa è accaduto. Quello che vi sto dicendo è questo. La coscienza superiore, il concetto stesso e la sua esistenza, il risveglio ad essa sono sempre stati qui. Dunque quello che sta accadendo adesso è che vi state risvegliando al passato. Vi state risvegliando a qualcosa che è sempre stato qui in attesa di rivivere, riemergere. E la bellezza di questo è, ascoltate attentamente, è che non è un mistero. Sto parlando a tantissime anime antiche adesso e vi darò questa informazione. Man mano che la luce emerge e vedete questa luce e vedete che ci sono cose intorno a voi di cui eravate inconsapevoli. La vostra stessa cash e quello che avete sperimentato in passato e che si trova dentro di voi come una libreria incomincerà ad attivarsi. Vi risveglierete a ciò che già sapevate. Lo ripeto, vi state risvegliando a ciò che già sapevate. Significa che non ci sarà una curva di apprendimento lunga. Incomincerete a vedere le cose intorno a voi, i nuovi processi, nuovi modi, cose come la coscienza della compassione e della gentilezza. E potreste dire che gli esseri umani dovranno imparare ad usare queste cose perché in passato non ce n'erano molte. Vi dirò che sì, c'erano, le avete solo perse e ora le state recuperando. Questo è il termine che abbiamo usato in passato. scavare nella cash è come fa un minatore, va dentro e estrae quello che già c'è. Nel vostro caso è qualcosa che vi appartiene, di cui avete fatto esperienza. Le verità fondamentali di chi siete, di come Dio opera con voi, le cose più grandi che potete imparare, essere, che fare, l'energia sciamanica, le modalità di guarigione. Avete perso tantissimo e ora stanno ritornando e state incominciando a tirarle fuori dalla vostra cash e li vedete guardandovi intorno e dite, ah, è tornato, io conosco questo, grazie. In questo stesso programma potranno arrivare degli guaritori che daranno delle informazioni così meravigliose e nuove e voi li guarderete e direte, non è nuovo per me, perché voi ve lo ricordate. E forse in altri programmi come questo, oppure là fuori, vedrete delle cose che sembreranno strane o misteriose, ma ci sarà qualcuno di voi che le riconoscerà e dirà, sì, sono reali, perché io sono già stato lì e conosco queste cose. È questo il risveglio, è più di quello che pensate. Come avete applicato questo alla vostra vita? Come vedete quello che vi sto dicendo per voi stessi? Ma la cosa più importante è cosa significa questo da adesso in poi? Ed è qui che sta la lezione di oggi, di stasera e anche del cerchio del 12. C'è un'espressione che ho sentito utilizzare agli esseri umani ed è territorio inesplorato. Questa espressione è il futuro. È possibile davvero scoprire il futuro, anche se non è ancora accaduto? Ah, adesso diventiamo esoterici. gli psicologi. Gli psicologi amano questo. E anche i fisici. E questo solleva molte domande sulle dimensioni. Qualcuno dirà, è possibile che il nostro futuro già esista? E man mano che andiamo avanti nella vita, esso cambia e poi noi ne scegliamo uno o un altro. Questo è molto lineare. E se vi dicessi questo, tutto accade insieme. L'avete già sentito dire. Forse il tempo è un costrutto per voi. Non riuscite davvero a capirlo perché non è possibile per un essere umano pensare che il passato, il presente e il futuro si trovino tutti in un'unica borsa e voi vi trovate nella borsa. Se questo fosse vero, come potrebbe essere se gli esseri umani hanno il libero arbitrio? Vi dirò che la parte di questo che non riuscite a capire è vera. Quello che fate oggi, in questo momento, in questo minuto della vostra vita, può fare due cose. Potete cambiare il passato per voi stessi, per i vostri antenati, la vostra cash e ne abbiamo parlato. E numero due, potete impostare il futuro. Voi potete capire questo. Anche se non credete che sia successo qualcosa, i potenziali di tutto sono già accaduti in qualche forma dimensionale. È il motivo per cui possiamo confrontarci con voi e dire le cose che accadranno perché i potenziali sono stati impostati. È come una palla di neve che inizia a rotolare giù dalla montagna. Per via della gravità e delle leggi della fisica sappiamo cosa accadrà. Raccoglierà sempre più neve, diventerà più grande e continuerà a rotolare giù. Quindi in questo caso qualcuno ha preditto il futuro? Direte forse, no, fermati perché non puoi predire quello che farà la palla di neve? No, perché lo sapete che la palla rotolerà giù, anche se è una cosa che accadrà nel futuro. È la stessa cosa che vi sto dicendo io. Noi possiamo vedere questa palla di neve della coscienza che rotola giù dalla montagna. E cosa colpisce? L'oscurità, dissipandola e allontanandola. Cambia l'umanità, cambia quello che farete, cambia quello che faranno i paesi e cambia il futuro della guerra. Cambierà così tanto che, vi ripeto di nuovo, che la storia non si ripeterà. Questo non è il mondo dei vostri nonni, è il vostro mondo. E questa palla di neve sta iniziando a rotolare giù dalla montagna. E posso dirvi quale sarà il futuro. Posso dirvelo perché è proprio come questa palla di neve continuerà a rotolare nella stessa direzione. E la direzione è la luce. Vi invito a fermarvi un attimo. E potete anche alzare le mani e dire, grazie Spirito, per quello che sta arrivando, di cui non so nulla ma che posso concepire, a prescindere da quello che vedo in televisione. Grazie Spirito, per le cose del futuro, le soluzioni che non riesco a vedere, perché è lì che sta andando la palla di neve. È predire il futuro questo? Oppure è il senso comune che sta diventando un po' più multidimensionale, carissimi? E penso che conoscete la risposta. È bellissima. potreste anche dire una o due affermazioni per consolidare il vostro innato. Io apprezzo con gratitudine ciò che mi sta succedendo. Potrei non riuscire a vederlo adesso. E potrei anche essere infelice adesso. Ma questa è un'anima antica matura che anche nella sofferenza riesce a dire, grazie Spirito, di amarmi abbastanza per ciò che sta arrivando. Grazie di amarmi abbastanza per ciò che sta arrivando. Se potete farlo, carissimi, allora si chiama risveglio ad una coscienza superiore e comprendere un po' di più il Dio che è dentro di voi. Oh, grazie. E per tutti voi che state guardando adesso e che magari stanno guardando per la prima volta, Dio, lo Spirito, la Sorgente Creatrice conosce il vostro nome. Non siete una vittima di questo pianeta. Siete qui, magnifici e con uno scopo e profondamente amati. Lo sentite? Io vi amo. Sono Crayon. E così è.